La Città Giura di aver visto un disco volante E se sono che quel disco volante Ritornerà Adesso è entro per l'ultimo C'è il posto più dei coglioni del mondo Adesso lo so io Tu vuoi travestiti Tu vuoi travestiti Nessuno ci va Qualcuno ci andrà A Milano la sera trovi in giro più trans che trans Ok 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 E quando Ok 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 Vai Vai Ok Ok Vai adesso E quando Ok Eh no aspetta se me lo puoi fare un po' più calzante Prova Forse è quello che è Ehve Questo è mio Sì RUSE Eh Eh Oh Ok Stiamo arrivando alla satura, l'attenzione degli attivi Una giornata in città con i Tupinger Mi raccomando, non mancare Porta la colazione al sacco Il panino con il salame e il panino con il donno Saranno stati da Don Bosco Mentre Rufio ci canterà le classiche canzoni dell'oratorio Quindi Rufio, devi attaccare Ok, dai! Ancora più entusiasmo, Rufio! Ok? Stiamo alla seconda strofa Ok, bravo Rufio! Tutto questo divertimento è una giornata in città con i Tupinger Cadono le palle come al flipper Ho visto cose che in Italia non potete immaginare Ragionate a calci perché vivete dentro non si vale Il mondo da dove vengo sembra una nota musicale Ragioniamo con le note è un sistema solare Italia unita si scuola parole La Sicilia sembra un pallone al piede di un calciatore Ma quando ci son problemi tipo l'immigrazione Quanti hanno pensato? Diamo una mano E quanti? Calcio a quel pallone? Che fai bene o che fai male? Dicono lo fa per gli euro Sto male anche se in tasca ho un arco balleuro Se chi la pensa come te è un italiano, vero? Io non sono un italiano, sono un italieno E ti non vengo dallo spazio come E ti do un consiglio se mi cerchi Non provare con la NASA Fai come E ti telefona a casa Da 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 di dati La gente va barbatta quando mi ada panti Dico da 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 di dati Ma non c'è bisogno di di agitarsi Sono come tutti gli altri Sono come tutti gli altri E se mi cerchi Non provare con la NASA Fai come E ti telefona a casa Grazie.